No, dico solo a Durigon, chi impedisce? Allora, questa misura in questo momento assicura tre cose. Lo svolgimento del lavoro stagionale, l'emersione del lavoro nero e l'inasprimento delle pene per chi ha favorito questa piaga sociale. Per fare una cosa di questo genere ti devi presentare con un contratto di lavoro che hai già utilizzato e sei lì e quindi chiedi un ulteriore permesso. D'accordo? Allora, io chiedo a Durigon, chi impedisce agli italiani in questo momento di trovare un'occupazione stagionale nella filiera agroalimentare? Sì, poi alcuni italiani hanno già aderito alle piattaforme delle principali associazioni imprenditoriali di categoria dando la loro disponibilità. Vi devo tacitare, perdonatemi, vi devo tacitare. Mirta, buongiorno. Buongiorno Andrea.